Tu hai una storia talmente enorme nella tua vita Nonostante io sia il più pigro che tu abbia mai conosciuto Tu sei pigro, però sei pigro perché quando c'era da lavorare, lavoravi Cioè sei pigro Ma anche perché c'è un muro, non so se anche per te è così, un testo lo faccio in un quarto d'ora Il testo nasce, ma non si può dire Io Donnelli l'ho fatto in 20 minuti Sì, sì, c'è Ma quando c'è l'idea c'è l'idea Però non si può dire, questo non registra No, va bene No, ma ci sono cose che magari non ti vengono mai Poi sono anche, sai, la storia No, se la musica ti piace Freddi Nasar mi da Dario Farina mi manda la cassetta con la musica di Cisarà Io sono grandissimo Io sento questa canzone e dico cazzo che bella, che bella, che bella E c'ho 15 giorni di tempo perché il 22 dicembre scade il termine Al 15 dicembre comincia a chiamarmi a Bano Il testo dov'è? Perché non l'aveva ancora fatto No E allora io comincio a dire, l'ho dimenticato in ufficio Allora lui mi chiama in ufficio Dico l'ho dimenticato a casa Insomma, prende tutte le scuse Io avevo fatto solo un foglio con scritto 19, 33, 41, 23 un mascherone i famosi numeri vedi che li usavo anche io e avevo solo fatto sto foglio sono a telefono alle 8 di sera del 22 di dicembre cioè era scaduto? scadeva a mezzanotte e Albano mi dice sono nella sala sotto l'ufficio di Pippo Baldo dove si fanno i provini con la base di Cisarà adesso mi detti il testo per telefono perché io devo cantarle e consegnarle ma Fredina Giard non ti aveva detto niente sì ma Fredina Giard mi aveva anche detto non stare a perdere tempo con quel pezzo Morale Albano mi telefono allora dico aspetta ce l'ho al testo non dimmi che l'hai fatto questo te l'ho detto però te l'ho detto piano perché ho una carigrafia di merda anche io non riesco a leggere e col mascherone davanti mi sono inventato il testo questo è pazzesco non possiamo dire questa cosa